Buonasera, segretaria quando vuole possiamo passare all'appello. Vi rinvito Massimo, Guido Remo, Caffaro Paola, presenti tutti e c'è anche l'assessore esterno Rizzo Federica. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione per bali sedute precedenti. Se possiamo darlo per letto, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Aspettate, aspetta un attimo. Si riferisce ai due consigli comunali, dovremmo approvarli singolarmente, perché noi eravamo assenti all'inizio. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi non ci sono comunicazioni del sindaco, passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, rendiconto, gestione, esercizio finanziario 2020. Prego consigliere delegato. Buonasera. Grazie a tutti. 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 euro derivano dal trasferimento dello Stato per consultazioni elettorali del 2020 che potrà essere destinato ad altre spese per emergenza Covid. Euro 89.095,02, quale saldo del Fondo Funzioni Fondamentali 2020 non utilizzato e da utilizzare nel 2021 per emergenza Covid. Euro 5.463,84, quale trasferimenti regionali 2020 da destinare a emergenza Covid nel 2021 ed Euro 30.330,28, quali trasferimenti per emergenze alimentari. La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2020 e le relative assunzioni hanno rispettato i vincoli disposti sull'assunzione di personale a tempo determinato per gli enti soggetti al pregio di bilancio, i vincoli sulla spesa per personale a tempo determinato con convenzioni o contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano a non superare la spesa del anno 2009. L'obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto a valore medio del triennio 2011 e 2013, il limite di spesa degli enti in presenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale assumendo riferimento all'esercizio del 2016. Buonasera, questo consultivo è figlio del bilancio dell'anno scorso, un bilancio che il nostro gruppo votò esclusivamente per senso di responsabilità condividendo né il metodo né la forma di questo bilancio. Oggi che cosa emerge da questo consultivo? Un aumento di circa 112.000 euro rispetto al consultivo dell'anno precedente. L'altro elemento che è degno di nota, almeno per quanto ci riguarda, è la parte vincolata, la parte vincolata riguardante il Covid. Augurandoci che queste somme, al contrario di quello che è stato fatto fino adesso, vengano veramente destinate alle persone che ne hanno bisogno e non in modo a dir poco clientelare come è stato fatto fino adesso. L'altro aspetto importante è la parte disponibile, la parte che può essere utilizzata per gli investimenti, questi 231.000 euro che ci auguriamo possa servire per cofinanziare queste opere che vengono spostate, come è stata la scuola, per mancanza di copertura finanziaria da parte dell'ente. Per questo, poi lo diremo nella dichiarazione di voto. Questo è il mio intervento, grazie. Se ci sono altri interventi, prego. Buonasera. In riferimento a questo punto all'ordine del giorno, avevamo la necessità di chiarire un dubbio inerente all'aggiornamento del prospetto A2, quello che ci è stato segnalato l'11 maggio. In seguito alla delibera di giunta 86 del 10 maggio, dall'oggetto schema del rendiconto di gestione anno 2020, aggiornamento, prospetto, risorse vincolate. Facciamo un passo indietro. Solitamente l'approvazione in bilancio del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario a termine il 30 aprile. Quest'anno, per via del decreto del 29 aprile, c'è stata la proroga al 31 maggio, un decreto però ufficiale del 29 aprile. Io leggo che con delibera di giunta 82 del 15 aprile, quindi a 15 giorni da quella che era la solita scadenza, è stata approvata la relazione sulla gestione per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 151,6 del decreto legislativo 267 del 2000 e lo schema di rendiconto con i relativi allegati da mettere a disposizione del Revisore dei Conti e del Consiglio. In ottemperanza la disciplina vigente in materia. Poi leggo, visto che il termine di approvazione è stato prorogato il 31 maggio, e arrivo a leggere sempre nella delibera di giunta, considerato che è necessario iscrivere, tra le risorse vincolate del risultato di amministrazione, anche le somme non utilizzate del Fondo per le funzioni fondamentali. Ex articolo 106, decreto legge 34 2020. Io mi chiedevo, insieme all'amico Vito, come mai una delibera di giunta del 15 aprile contenesse già degli atti che poi ufficialmente sono stati modificati il 10 maggio, sono stati resi noti a tutti i consiglieri l'11 maggio e stiamo discutendo oggi il rendiconto con un aspetto fondamentale che è quello che è stato aggiornato un prospetto, che è un qualcosa che non ho sentito citare dal delegato fortunato. Quindi ribadisco, se il 15 aprile tutti gli atti erano pronti per una scadenza del 30 aprile, come mai c'è una modifica al 10 maggio? Mi sarebbe utile, per quanto ci riguarda, comprendere se la modifica del prospetto sia dovuta a qualche norma intercorsa dal 16 aprile 2021 al 9 maggio 2021? O se sia frutto di un errore? Perché, ripeto, se le scadenze rimanevano tali, il 30 aprile saremmo venuti qui a discutere gli atti presentati il 15 aprile. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, Consiglio Portunato. Per rispondere, diciamo, alla differenza della delibera 82 di giunta rispetto all'86 per il prospetto. Allora, praticamente, al primo prospetto presentato c'è stata successivamente la certificazione del fondo funzioni fondamentali definitivo e da lì ci sono stati inseriti vincoli e sono passati la parte vincolata da 117 a 126. Quindi è stata aggiornata la parte vincolata perché ci sono stati certificati i vincoli del fondo funzioni fondamentali. Ci sono altri interventi? Consigliere Piri, buonasera a tutti. Intanto, visto che nell'ultimo consiglio eravamo assenti, colgo l'occasione sia a mio nome che a nome del consigliere Guido, ovviamente, di augurare buon lavoro alla neoconsigliera Paola Cafaro che, siamo certi, saprà dare un importante contributo alla nostra comunità e al tempo stesso rivolgere un saluto affettuoso a chi non c'è più, quindi all'amico Gianluca Delia. Detto questo, passiamo senza inutili perdite di tempo a chiedere un chiarimento. Il 29 aprile veniva approvato il decreto legge dal Consiglio dei Ministri che praticamente vedeva disciplinate le disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, per cui noi abbiamo rimandato la scadenza originaria del 30 aprile al 31 maggio. Allora, la domanda è, se noi fossimo venuti in Consiglio Comunale e avessimo approvato, questa è una domanda che vi faccio, così come stava, diciamo così, predisposto l'atto deliberativo, quello del 15-4-2021 con la deliberazione numero 82. Poi cosa sarebbe successo? È chiaro che va sostanzialmente ravvisata una lieve forza e mancanza che potrebbe essere sfuggita. Allora, molto onestamente, perché succede, nelle migliori famiglie succede a tutti, onesta intellettuale vuole che si dica che è sfuggito un atto oppure è stato commesso senza nessuna colpa da parte di nessuno, ma per eccessivo accumulo degli atti, il Covid, possiamo dire quello che vogliamo, ma è stato commesso un piccolo errore. Allora, si dice che tutto va bene, senza che nessuno stia a analizzare colpe o a trovare colpevoli o a ravvisare responsabilità. Però, se noi avessimo approvato nei termini, cioè e non ci fosse stato nel frattempo il provvedimento del Consiglio dei Ministri che ha prorogato al 30, avessimo approvato nei termini, che cosa sarebbe successo poi? Grazie. Se ci sono altri interventi... Ce ne sono? Parto dall'ultima, che diciamo si sarebbe ritornati in Consiglio per approvare il prospetto. Il rendiconto di gestione rappresenta la sintesi espressa in valori economico-finanziari degli interventi realizzati nel corso dell'anno 2020 dall'amministrazione comunale. Costituisce pertanto una vera e propria fotografia dell'attività amministrativa svolta, attribuibile solo per una porzione temporale all'attuale amministrazione. Tuttavia, se da un lato, come già avete potuto ascoltare, la fase della rendicontazione ha per sua stessa natura una connotazione tecnica, dall'altro il Constitutivo rappresenta un documento dal contenuto fortemente politico. Non si è in presenza di un semplice strumento contabile, ma esso deve essere visto in maniera molto più ampia, in quanto rappresenta i fatti gestionali conseguenti a determinate scelte di un'amministrazione. Non vi è dubbio che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, rilevanti sono stati i risultati raggiunti nell'anno di riferimento da entrambe le amministrazioni che si sono avvicendate, dove per una risultavo sindaco facente funzione e per questa nelle funzioni di sindaco. Risultati che sono evidenti sotto gli occhi di tutti, dai lavori pubblici all'interventi di natura socio-assistenziale, volti a non lasciare nessuno indietro, in un momento storico di per sé così delicato. Mi sia consentito per questo porgere, sia come sindaco facente funzione e come sindaco oggi, un ringraziamento particolare agli uffici per la loro fattiva collaborazione e per l'ottimo lavoro svolto. Il Comune di San Piorillamo può vantare una situazione economico-finanziaria complessivamente sana, così come annunciava prima il Consigliere Fortunato, un risultato che non è scontato né di poco conto. Si è lavorato sodo, effettuando un'approfondita analisi di bilancio, entrando nel merito di ogni singolo capitolo di entrata e di spesa. La gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale, come attestato dallo stesso organo di revisione che ha espresso parere favorevole all'approvazione del presente rendiconto. Un esercizio finanziario che si chiude, come poco anzi detto, al Consigliere delegato con un avanzo di amministrazione della quale una quota parte o una quota verrà utilizzato come già attestato nel piano dell'opera pubblica per cofinanziare la realizzazione della nuova scuola elementare. Un bilancio dunque complessivamente ben gestito e quindi questo è un conto consuntivo che ritengo, pertanto non possa non meritare il voto favorevole di questo Consiglio Comunale. se ci sono dichiarazioni di voto Per dichiarazione di voto Bene, dopo aver sentito questo intervento del Sindaco, sono sempre più convinto al voto contrario. Voto contrario perché? Proprio per quello che ha annunciato il Sindaco, non lasciare nessuno indietro e poi si mettono fondi dove non devono essere messi. Si cerca di allargare la platea Si parla di buona amministrazione ma c'è un avanzo di amministrazione maggiore rispetto all'anno scorso Questo che cosa significa? Che non si è operato bene perché sappiamo benissimo che se aumenta l'avanzo di amministrazione è stato gestito male la spesa In parte possiamo dire anche che sia dovuta alla pandemia Va bene Forse il Consigliere Dell'Anna non sa cos'è questa cosa Atteniamoci alla dichiarazione di voto e cerchiamo di usare un linguaggio consono all'assise per favore Non cominciamo con le offese o quant'altro Qualcuno ha interrotto, non io Per cui se c'è stato un aumento del risultato di amministrazione vuol dire che non si è operato bene perché si sono passati 112.000 euro che potevano essere spesi e sono passati in avanzo di amministrazione Per cui il nostro voto sarà contrario Grazie Se ci sono altri dichiarazioni di voto Prego Consigliere Piri Noi annunciamo il nostro voto come gruppo di astenzione riguardo a questa proposta di deliberazione però confermiamo che avevamo ragione il Consigliere Fortunato non aveva interpretato bene la domanda che avevamo fatto e cioè che poi lei ha confermato si sarebbe dovuto tornare poi in Consiglio per le opportune variazioni e rettifiche Quindi confermo il voto di astenzione Grazie Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego Sì la nostra dichiarazione di voto io devo esprimere devo associarmi agli apprezzamenti che ha fatto il sindaco a tutti gli uffici io prima che avvenisse la campagna elettorale volevo assicurarmi di che cosa si trattasse e quindi per quello che sono riuscito a capire ho visto che c'era stata una ottima e una amministrazione assolutamente oculata e da buon padre e da buon padre di famiglia per cui il voto deve essere assolutamente ritenuto importante soprattutto in questo momento perché io voglio dire la nostra voglio ricordare a me stesso e a tutti quanti voglio ricordare un grande un grande attore che aveva una capacità di sintesi notevole che in tempo di crisi gli intelligenti cercano soluzione gli imbecilli invece cercano colpevoli e questo viene sintetizzato tutta la volontà e la voglia di amministrare con grande sagacia e con grande intelligenza e con grande capacità di non far rimanere nessuno indietro grazie se ci sono altre dichiarazioni di voto prego buonasera a tutti assessore De Carlo voglio semplicemente fare una precisazione ed invitare soprattutto il consigliere De Leo quando fa i suoi interventi a portare rispetto a ricordarsi anche lei mi deve far parlare lei mi deve far parlare prego prego consigliere sta facendo una dichiarazione di voto non disturbi come è stato disturbato lei io sto rispondendo io sto rispondendo io sto rispondendo all'affermazione che lei ha fatto in quest'aula poco fa quando ha parlato di gestione clientelare d'accordo allora lei deve fare attenzione alle parole che utilizza molto lei deve stare in questo momento mi deve far parlare mi deve far parlare poi faccia quello che vuole perché se allora perché le dico questo perché sono sono delle accuse abbastanza pesanti che lei non si deve assolutamente permettere di fare l'attività è trasparente lei stesso e il suo ex consigliere che sedeva accanto più volte avete fatto l'accesso presso gli uffici e vi siete resi conto di quello che che praticamente di come viene gestita l'attività allora io le faccio un'altra osservazione e anzi la invito se lei è a conoscenza di qualche situazione che va contro la legge io la invito a fare ovviamente non in questa sede nomi e cognomi ma la invito a rivolgersi presso le istituzioni e a fare gli esposti che deve fare perché questa amministrazione ma penso tutto il consiglio è sempre per il rispetto della legge e qui non si fanno favoritismi lei sa cosa significa gestione clientelare? lei sa che cosa significa? forse sì perché è un termine che probabilmente è sempre così comune d'accordo? allora quello che chiedo è il rispetto non si fanno insinuazioni se ha delle certezze se ha dei fatti lei parla d'accordo? e parlerà nelle sedi preposte però io non permetto e parlo a nome di tutto il consiglio ovviamente che anche rappresento visto e considerata l'attività trasparente di questa amministrazione gli accessi ripetuti che lei fa anche presso il mio stesso assessorato presso l'ufficio che io anche voglio dire rappresento non si può permettere di fare un'affermazione del genere altrimenti queste affermazioni devono essere seguite dai fatti concreti allora per favore questa è una precisazione che ci tengo a fare perché lei ha sempre l'abitudine pensa sempre di stare probabilmente in campagna elettorale ma se ne dovrà fare pure una ragione di dove sta seduto probabilmente io sono ovviamente favore sì mi scusi ovviamente concordo con quanto esposto con la linea esposta dal sindaco e dal consiglio che rappresento grazie se ci sono altre dichiarazioni di voto se no passiamo alla votazione favorevoli contrari astenuti per limitata eseguibilità favorevoli contrari astenuti passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno ad agguamento costo di costruzione anno 2021 l'articolo 16,1 del DPR del testo unico numero 380 2001 prevede che il costo di costruzione per gli edifici residenziali in assenza di determinazione regionale sia adeguato annualmente ed autonomamente in base alla variazione Istat che al 31 dicembre 2020 era pari all'1 per cento pertanto si propone che il costo di costruzione per gli edifici residenziali sia aggiornato in euro 715,64 euro passiamo agli interventi se non ci sono interventi passiamo prego consigliere Piri sindaco io leggo si dispone che i suddetti valori si applicano ai titoli edilizi il cui parere dell'ufficio tecnico è stato espresso in data successiva al 31 dicembre 2020 quindi questo che cosa significa che chi dal primo gennaio 2021 al 31 maggio 2021 ha usufruito dovrà avere un aumento retroattivo dovrà pagare qualcosa di questo per capire qual è l'intenzione come ogni volta se sono state rilasciate dei permessi di costruire con relativo costo di costruzione sarà chiesto il conguaglio se ci sono altri interventi dichiarazione di voto sindaco io faccio anche la dichiarazione di voto ovviamente nell'inter però ci tengo a sottolineare che insomma siamo al 31 di maggio sono passati 5 mesi di questo anno di per sé un particolare che c'è che ci che abbiamo trascorso fra pandemie problemi eccetera quindi oggi andare ad approvare una delibera di questo tipo dove andremo a chiedere ulteriori somme forse minime da pagare ai cittadini mi sembra visto che in altri comuni non si fa che forse vada beh l'hanno fatto al 31 gennaio però ovviamente altro è dire lo faccio dal primo al 31 gennaio e quindi chiedo alle licenze o ai costi l'adeguamento per un mese per 30 giorni altro è dire alle persone sono passati 5 mesi però mi dovete all'adeguamento dei costi quindi io direi se è possibile di conteggiare questi costi maggiori dal primo giugno in poi da domani in avanti senza guardare visto che stiamo approvando oggi per dare un segnale anche di di mano tesa nei confronti della dei cittadini di dire dal primo giugno del 2021 in poi pagherete per quelle future ma andare a fare operazioni retroattive pur se minime che vanno diciamo così ad aggiungersi ad altri costi che purtroppo i cittadini già hanno già martoriati insomma tutto quello che sta succedendo e anche poi le indicazioni del governo stesso discorso sta facendo un pochettino a livello centrale così a livello comunale dovremmo anche noi a nostro modesto parere cercare di attenuare quanto più possibile questi ulteriori costi nei confronti dei cittadini quindi se ripeto può essere accolta la proposta di chiedere questi aumenti dal primo giugno in poi ovviamente io spero che anche il consigliere Guido sia d'accordo su quello che io sto dicendo però poi se non lo è come abbiamo sempre fatto farà anche lui il suo intervento però ribadisco sindaco questa volontà questa intenzione di adottare questo aumento dei costi dal primo giugno 2021 in poi il voto il voto ovviamente è in base a quello che saranno poi le decisioni che adotterete ci sono altri interventi prego consigliere Guido ho ascoltato l'intervento del consigliere Piri quello che condivido assolutamente l'opportunità per quello che saranno i prossimi adeguamenti di portarli in consiglio a tempo diciamo così debito nel senso che ci sono tanti e tanti e tanti comuni che l'adogamento del contributo di costruzione del 2021 lo fanno anche alla fine del 2020 ci sono già le relazioni dell'ufficio presposto e moltissimi lo fanno già in gennaio in maniera così di evitare di arrivare a a fine maggio a portare in consiglio a rendere ufficiale un qualcosa che comunque ha un mese diciamo di vita ma sarebbe opportuno che ne avesse cinque anche perché fondamentalmente quello che io penso è che l'adeguamento del contributo di costruzione è legato alla variazione istat quindi se il valore è solo in base a un unico valore percentuale un più un per cento due zero cinque un meno zero un meno uno quindi fondamentalmente questo tipo di relazione questo tipo di punto all'ordine del giorno rispetto a tante altre argomenti che vengono trattati credo che sia uno dei più snelli forse in assoluto il più snello e quindi ribadisco che a parere mio sarebbe opportuno sarà opportuno le prossime volte trovarci qui già a gennaio a votare l'adeguamento del contributo di costruzione se fosse nelle possibilità di quella che l'amministrazione nel ruolo consigliare quello di prorogare questo conguaglio e far sì che venga solo da quando c'è l'atto ufficiale condividerei questa questa azione non posso quantificare perché obiettivamente non ho idea di quanti contributi di costruzione siano stati erogati in questi cinque mesi non posso quindi fare un calcolo né tantomeno qualcosa che che mi compete fondamentalmente per sapere quali sono le cifre però diciamo in via di principio sarebbe carino questo quindi queste due secondo me opportunità grazie ci sono altri interventi solo a conferma perché adesso non lo leggo nel deliberato comunque vorrei chiedere conferma se è stata legata la relazione dell'ufficio tecnico ok allora come previsto diciamo come descritto già nella relazione del responsabile dell'ufficio tecnico in data 21.4 2021 è pervenuta la certificazione da parte dell'Istat della della variazione quindi dell'indice Istat in virtù di quello se non erro il giorno dopo è stata redatta la relazione e relativa tabella di adeguamento del costo di costruzione quindi come dicevo prima il conguaglio sono delle somme richieste per legge che purtroppo devono partire o per forza devono partire dal primo gennaio e altrimenti costituirebbero un danno erariale se ci sono dichiarazioni di voto io passerei alla votazione solo per dire che il nostro voto sarà astenuto su questa delibera l'altra dichiarazione di voto passiamo alla votazione favorevoli contrari astenuti immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti quindi quindi allora prima di passare all'approvazione dell'ultimo ordine del giorno riguardante la nomina del componente supplente della commissione elettorale comunale a seguito di un approfondimento tecnico e presa visione della circolare del ministero dell'interno numero 2006 del primo febbraio 1986 paragrafo 11 istruzione per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali dietro sollecitazione dell'ufficio proponente si ritiene opportuno procedere alla rinuncia del presente punto dell'ordine del giorno nella citata circolare è chiaramente esclusa la possibilità di procedere a elezioni parziali per la sostituzione dei componenti effettivi e supplenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo in carica della commissione stessa tale divieto di sostituzione si estende anche al componente che rappresenta la minoranza consigliare ciò inoltre è stato confermato dalla sentenza del consiglio di stato nell'adunanza generale del 31 agosto 1967 con parere 969 quindi io passerei alla votazione per il ritiro di questo punto all'ordine del giorno se volete potete fare qualche intervento altrimenti passerei direttamente alla votazione favorevoli per il ritiro contrari aspettiamo un attimo sì è previsto per legge che non si può fare una votazione parziale dei componenti della commissione elettorale fino a quando c'è il numero legale per per il funzionamento della commissione elettorale questa la nuova votazione diciamo generale integrale non può essere non può essere svolta questo è previsto dalle leggi che ho appena enunciato e dalla circolare del ministero degli interni che la chiarisce allora favorevoli a ritiro una limita contrari astenuti immediata seguità grazie a tutti buona serata grazie a tutti